Che cos'è Amore e Psiche? Amore e Psiche è una scultura di Antonio Canova, ultimata nel 1793 e situata presso il Museo del Louvre. Questa scultura rappresenta il rosiglio di Psiche, caduta in un sonno profondo, che viene baciata da Amore, il suo innamorato. La forma della scultura è detacchiafmo, cioè a croce. Le parti che lo compongono sono la gamba a destra di Amore, le sue ali e il corpo di Psiche. L'artista ha scolpito il mammo levigando il corpo, rifinendo i particolari ma lasciando quasi grezza la zona della roccia. La veste di Psiche cade uniforme e senza scomporsi sulla roccia, i particolari, tra cui le pieghe suscitano molta eleganza. I due innamorati si stanno abbracciando, le braccia disegnano traiettori che rappresentano il loro amore. Le figure risultano bloccate, questo tipo di rappresentazione è una caratteristica dell'arte di Canova. I due personaggi sono uniti attraverso lo sguardo con cui comunicano e con cui esprimono tanta emotività. L'opera esprime calma, equilibrio, rigore compositivo.